Sì, queste cose qua, sì sì, due, due, sennò perde equilibrio, ma vai, stringi, le gomma, come faici qua, metti due piedi su un coso se non ce la fai, mettene uno e uno, eh, vai, mettine, dai, no, così è peggio, guarda che, asciugati i jeans, quanto sei bagnata, dai Roby pensa che andrai su YouTube, guarda, così è peggio, mettine lì le mani, così ti fai molta più fatica e ti fai anche male, ma non riesci a mettere anche l'altra mano sull'altro coso, dai, dopo ci vedrai su, dai, non puoi tornare, non puoi tornare, non puoi tornare indietro è peggio, fai più fatica a rifare tutti gli altri e poi c'è anche l'altra gente, dai, sei già a metà, dai che ce la fai, una volta che l'incoraggio, dico che più avanti, dai, sei quasi un decimo, sì, ti fai male, ti fai un profumo, dai che prima a prima ce la stai facendo, tranquilla, tocca anche se cagli non ti fai male, c'è la cosa, l'imbragatura, stringa, come si stringe più, tira i lacci, daенным i lacci, da 보고 pat Pokee, guarda la cosa, l'infragatura, tempo si esforce, blamed, la last nameday, di quaere e degli altri ci past step grew up, noi, c'è la cosa, l'incorso, poi l'incorso via che ancora facesse, la cosa, S baggage sul Freud, state c'è la cosa, ilопрос, è proprio per fibra è proprio per fibra mi fa un po' comare le mani? beh sei a metà, hai superato la metà eh? sì, ma metti l'amore dai, metti i piedi avanti ok, bravo ok, mani avanti portate avanti le mani ok oh ah bruh ho tutto il nostro percorso dai io ti amo brutus io ti amo Pensa qui, pensa qui Che buono Criente, criente Se credo ti spacco il culo No Sì, dai, poi anche mi stanno andando, perché tanto non si muove No, vabbè, sì Sto bene? Beh, brava Robi, brava Grazie Grazie